Sono famosissimi Ah sì? Sì, mi ricordo per esempio che nel suo Fortnite ho fatto un esempio, così banale Mi ricordo agli inizi, mi sembra che sia successo una cosa del genere Che c'era il piano di cheater, fino a che fanno una scrematura Sì, poi hanno fatto tipo anti-cheater E poi quello che so è lo stesso anti-cheater che c'è su Fortnite questo Sì Lo stesso di Apex pur No C'è un po' di ingegneri e grigio E' un po' di migliori Com'è? No, non è dei migliori Comunque come l'hanno aggiornato del gioco Non era un gioco, lo bucano Lo bucano bene, a quanto pare Sì Ottimi presenti che c'è su Apex 1 Che non riescono a buttare fuori Addirittura Sì C'è questo quando vuole giocare gioca Quando vuole giocare gioca Quando vuole buttare a terra il server glielo butta Fa il cazzo che gli pare No vabbè E' proprio scravato con l'Asia E' come se avessi codici sorgenti in mano quello E' quello che vuole E' quello che vuole E' quello che vuole A me mi lagga raga Mi lagga il chisme A me no raga eh Beh, per adesso Non lo so Ma che cosa è che vedete? Vedete le cose? No, ogni tanto mi faccio scattino lo sai? Oh Beh Mi scattino quello brutto Ragazze C'è un 8x qui Ma comunque Comunque cambiando la grafica ho messo tutto al minimo per esempio Per vedere no? Non è che cambia tantissimo in realtà Deve verità eh Cambia poco Non c'è Gengar però Ciao Gengar C'è gente? E' una gran carriera eh Ma non c'è nessuno E' che poi Spuntano all'improvviso E' che viene questo Ma no Ma no Cosa 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 non so se vi serve con di tuba dentro la cassa d'oro e spara ma si 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 che cazzo ne ha ucciso due anni me li so scopati fra a sangue stanno ritornando infatti li trova eccolo tanto so scarsi si ma son botte ci ci si 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 se se il 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 cazzo io c'è giù jupiter e nana bianca qua ho uno da me c'è l'armissibile è sparito eccolo no ma scammata che illo è stato in giro stiamo in giro stiamo in giro non si vedeva un cazzo ok lo sapete che cosa gli puoi sparare macchina ho massacrato cazzo come che mira di merda cazzo uno dietro dov'è? eh non lo vedo posso sentire il rumore cazzo è andato cazzo è la cazzo è la K cazzo è la K cazzo è la K ci chiamo la macchina ci chiamo la macchina c'è prima ucciso cazzo è la K No, è un altro Da dove ci sparano? Da dietro ci sparano Sì, c'è la ragà Ho più la macchina, ragà Oh, ma dove cazzo mi sta sparando? Due, 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 due Dove, dove? Cazzo, merda Ma pure di qua? Oh, cazzo Mado Oh, cazzo Oh, cazzo Ma pure di là Merda Da cazzo Corre Corre C'è un bel merino, cazzo Un po' il bombardamento Occhio, occhio, occhio Occhio, cazzo Occhio, cazzo Il bombardamento Un po' il bombardamento Ma raga, mi sono Spero Il bombardamento Il bombardamento Non ci sposti Non ci sposti Non ci sposti Non ci sposti Occhio, il bombardamento Meglio a sinistra, raga Preso Macchina C'è gente qui, raga Questo qua, chi è? Eh, ma Anche a destra, cioè, abbiamo dietro Cioè, ci arriviamo delle palle Teniamo posizione, raga Arriva la macchina Dove? Qua, qua da noi Sono i reapers, sono Oh, laggiù, raga Guardate dove sono Eh, sì, ve lo sto ripetendo Eh, ma occhio a destra, raga tu Eh, infatti, ci siamo togliati dalle palle Secondo me, da qua Raga, facciamoci, andiamoci a prendere il drop Veloci, veloci Siamo circondate, poi ci circondano Ve lo dico già, eh Uno ancora Eccoli Di cazzo sono questi? Mamma mia Minchia, l'abbiamo Distrutti Eccoli, raga Coppertemi un secondo Sarai arrivando da di noi Com'è, gli spariamo Ecco Ecco Oh, ragazzi, non ho detto no, non ho detto no, non ho visto Oh, ragazzi, non ho detto no Cazzo è stata arrivando, sta arrivando, perché spara tagliato, spara da questi coni stando qua forza di quella troia occhio davanti a voi scuola mamma mia ragazza ma quanti erano portavolta se non c'è capito niente non c'è capito era un casino ma non c'è capito niente pensavo che ce la facevamo un po' per la verità vedo 2 euro ho detto una squadra di manetta ha detto 3 in realtà la città la prima posizione vediamo a te qua cari troppo ragazza che è col padre non so c'è qualcuno a me cazzo c'è qualcuno a me cazzo vabbè morta morta dove cazzo è uscito se ne è passati voi puoi passare due per il stesso questo l'ho rotto ce l'ho un mirino io porca puttasse qua c'è un mirino ne mancano due solamente è finita raga facciamo quel drop è finita raga fanno male ste bombe raga venite verso di me no uno solo raga no perché siamo in tre vabbè venite verso di me fanno poste male ste bombe ma infatti ci vuole come quando devi tipo uno si mette dietro una se ti pare detto qualcosa e ci lanci quelle cazzo boh c'ho l'iron man andiamo all'altro drop venite parte 9 dove no 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 andato ecco l'ho visto l'ho visto vai a burtto Sì, non è vero. Sì, non è vero. Non è vero. Non è vero.